Erwin, dopo la vettura di oggi, credete ancora al secondo posto? Certo, crediamo. Abbiamo vinto, crediamo. Perché no? Vediamo tre importanti partite, vediamo cosa succede, bisogna vincere. Non è facile, ma oggi abbiamo vinto una grande partita, vogliamo continuare. Vediamo cosa succede. Come è andato a tenere Higuain? Bene, 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 non ti posso dire tanto, per me tutti i giocatori sono più importanti come sono io, se io non sto bene in campo, tutti sono difficili. Grazie.